Soprattutto per i più giovani d'estate, per le fasce deboli, quindi sport, solidarietà, inclusione e far vivere sempre di più la mostra oltremare. L'associazione che voi sapete tutti fanno parte di diversi campioni medagliati olimpici, da me a Diego, Pino Maddaloni, fratelli Franco e Pino Porzio, Massimiliano Rosolino, Sandro Cuomo, Manuela Migliaccio. Siamo un gruppo di campioni che stiamo organizzandoci proprio per dare una mano a tanti bambini a fare sport all'aria aperta, divertirsi, soprattutto nel periodo post-scolastico hanno la possibilità di fare dei campus come questo villaggio organizzato qua nella mostra oltremare. Sappiamo che abbiamo un dovere, quello di far conoscere i valori positivi dello sport e noi ci proviamo. Durante il periodo invernale abbiamo una palestra a Soccavo, abbiamo aperto una palestra a Soccavo dove praticamente facciamo un po' tutti gli sport, cerchiamo di concentrarci soprattutto nella scherma, nella box, ma anche in tante altre discipline. Poi nel periodo estivo invece ci trasferiamo qui in questa splendida cornice della mostra oltremare dove come si può vedere facciamo un po' tutto, ma soprattutto cerchiamo di impiegare il tempo dei ragazzi cercando di trasferire i nostri valori e i valori dello sport. Palextra, la gorà dello sport, inaugura la sua seconda edizione. Il villaggio dell'associazione Mille Culure all'interno della mostra ad oltremare riapre gratuitamente a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Lo scorso anno sono stati oltre 4.000 partecipanti, provenienti da parrocchie, scuole ed istituzioni sociali del territorio. Aperto da giugno a settembre, Palextra è un progetto che punta a colmare le distanze per l'integrazione e la crescita sociale dei ragazzi, un impegno portato avanti grazie alle discipline sportive. E l'inaugurazione è stata anche l'occasione per salutare la partenza dei campioni olimpici e paralimpici napoletani qualificati per Rio, a partire dal presidente di Mille Culure, Diego Occhiuzzi, già argento a Londra 2012 e oro mondiale a Mosca 2015. Mi sto preparando al meglio, sto cercando di andare a Rio nel migliore delle condizioni e poi spero di poter confermare quello che ho fatto di buono nelle Olimpiadi scorse e poi se riesco a migliorarmi è ancora meglio. Sono venuto qua ad abbracciarli, a Diego Occhiuzzi, a tutti gli altri, una grandissima opportunità per lo sport italiano e in particolare poi per lo sport napoletano. Quindi noi siamo orgogliosi dei nostri campioni che sono campioni, devo dire come lo dimostra la giornata di oggi, non solo nello sport olimpico ma anche nella vita quotidiana perché lo sport è etica e solidarietà e fratellanza. Pronti per Occhiuzzi? Vici! Bravi!